Il quintetto scelto da Messina per cominciare questo secondo quarto con D'Atome che si alza per il tiro da tre. Fallo su Schilz. Si è caduto e quindi di conseguenza fuori equilibrio non può essere un contatto da scrivere l'attacco. Intanto Gigi D'Atome va con il secondo tiro da tre della sua serata. Schilz prova ad attaccarlo, prova a girarsi Schilz, non c'è spazio dall'altra parte Schilz, stava per prendere palla da D'Atome alla riconquista ed è l'ottavo punto per Gigi D'Atome. Heinz per Pengos, D'Atome spallata con Robinson, tira un allontanamento Gigi D'Atome, Gigi D'Atome. Il banco di Sardegna Sassari. Pengos prova ad attaccare Chris Dao che esce bene dal blocco, l'angolo per D'Atome, si alza dall'angolo, Gigi D'Atome.